Bramo una città in cui ognuno possa vendere senza danno, con buon prezzo e qualità senza affanno. Sogno un consorzio fatto di mercanti solidali fra loro, di cui tutti si possano fidare e non intenti a vendere argento per oro. Questo è il mio desiderio. Nessun garzone a cui dire io milagno. Al nome di Dio e del guadagno. Franceschino, ma che bella giornata che è oggi! Senti, ma ti va di andare a conoscere tutti i negozianti del consorzio Prato C'è per andare a conoscerli e anche a fargli delle domande sulle loro attività? Va bene? Allora partiamo! Siamo alla frutta Franceschino! Buongiorno Enrico! Buongiorno, buongiorno! Come stai? Alla grande, sempre uguale, sempre in forma. Senti allora io Franceschino sono un minestrone per oggi a pranzo. Di che dici le mie eccezionali? Dici le mie eccezionali! Io ho questi minestroni, quelli preparati e tutti li troverai alla casa! Quelli preparati? Perché tu l'ha fatto tu? L'ho fatto io! Quelli di sacchetto di superbruncato! Che c'entra di dire con questo? C'è il paragone, no? Senti, da dove arriva la sopertura? Tutta roba di rinostrare nelle zone nostre, Scandicci, Prato... Capita, indossi una roba buona! Bene, allora dimmi un pochino! Questo è un minestrone mio fatto da me la mattina di levata! Carotte, zucchine, fagiolini, porno... Io vedi il pentolone! E tu lo butti dentro! E ci metto un po' d'olio? Un po' d'olio ho sempre, un tuo olio buono e tu metti le specialità che tu mangi! Va bene, ci metti un po' d'olio, quanto devi cocire questo minestrone? Una a 25 minuti, 30 minuti! Va bene, poi si mangia insieme! Poi si mangia insieme alla grande! Senti, un po' di frutta me la dare anche ai minestroni! Se tu vuoi un po' di frutta di stagione la sceglie! Che ce l'hai il comomero? Si, le pennecciole ciò, vieni via! Ma che tu mi fai se ci comelo ora! Dima un pochino, dammi il frutta di stagione! Pere, mele e cacio! Eh, pere, mele e ora si cominciano le mentini di stagione buoni! Oh, buoni! Le mentini buoni di calabresi proprio nostrali! Poi arrivano anche l'arancia! L'arancia trappoggi, il sufrutto, arance, gli agrumi buoni! Le mentini e arance! Senti, questi aglietti, come c'hanno vampiri in casa! E questi sono aglietti buoni perché sono quelli rossi, sono quelli con puzzano dai! Questo è proprio un aglio nostrale, francamente! Senti, ma la mattina che ora salsa? Un vero frutti vendolo, detto alla cortolana! E bisogna assarsi presto un fappette! Un fappette! Allora, venite tutti! Passiamo alla frutta perché la frutta, tu c'hai fede, diciamo la pesca! Penso le immagini ne parlano! Ce l'ha nessuno! Sembra dipinta! Sembra stampata! Via, dove siamo? Via Firenzola! Via, detta via di pesce! A Prato siamo alla frutta e viva Prato! Viva Prato! Centro! Viva il centro e viva Prato! sono in confianza di questi tutti Imani!